Allora Mario, ho sentito che hai un segretuccio. Dai Mario, non è una tragedia. Dillo a tutti. Cavoli, questa non me l'aspettavo. Intendevo l'auto usata che hai acquistato da Hertz. Hai comprato un'auto con chilometraggio basso e garanzia del costruttore, a un prezzo molto conveniente da Hertz. E non hai detto agli amici che potevano fare un affarone anche loro. Sai che Hertz vende auto. Grazie.